Sono 1,2 milioni i malati di Alzheimer in Italia e ci sono altre 700.000 persone che ancora non sanno di essere malate. A livello mondiale sono 49 milioni di pazienti con una situazione che porterà, tra dieci anni, ad avere un nuovo malato di Alzheimer ogni tre secondi. È quanto emerge dal convegno Invecchiare in Salute quali percorsi che si è tenuta a Roma e che è stato organizzato da Rotary Club Roma Capitale. I malati di Alzheimer sono 120.000 in Lombardia, 109.000 nel Lazio e 106.000 in Emilia-Romagna. La patologia interessa lo 0,4% di chi ha tra i 65 e i 69 anni, l'1,9% di chi ha tra i 70 e i 74 anni, Il 3,4% di chi ha tra i 75 e i 79 anni, per arrivare a toccare l'11,5% degli anziani che hanno oltre gli 80 anni. Le donne hanno un'incidenza del 6%, doppia rispetto al 3% degli uomini. L'insorgenza della malattia è diffusa prevalentemente tra gli individui meno istruiti, 6%, con quota doppia rispetto a chi ha un'istruzione media, 3%, e meno diffusa tra chi è altamente istruito, l'1%. Il 63% dei malati riferisce di aver gravi difficoltà nell'attività di cura della persona, il 90% ha gravi difficoltà nelle attività domestiche, il 68% lamenta un calo di concentrazione, e il 12% dei malati è in corso in incidenti domestici. Per Renato Boccia, portavoce responsabile del progetto Alzheimer del Rotary Club, è necessario trovare molti più fondi per finanziare la ricerca. Grazie a tutti.